Nelle mani di Crocetta quella busta non è arrivata, si è fermata prima negli uffici della sicurezza di Palazzo d'Orlean dove viene smistata la corrispondenza destinata al governatore e che viene vagliata anche dagli agenti di polizia. Sono stati loro a scoprire l'involucro, un plico piuttosto voluminoso con il nome e l'indirizzo del destinatario scritti in modo frettoloso con un pennarello nero dentro un proiettile di grosso calibro, presumibilmente un fucile da caccia. La busta è stata consegnata agli investigatori che hanno avviato le indagini, un episodio che per Crocetta non è il primo ma che il governatore accoglie senza nascondere l'ansia. Sono preoccupato, ha detto, anche se non è il primo episodio di questo tipo che mi accade, credo sia il frutto di un clima di assedio politico nel quale sono costretto a vivere. Quando alcuni esponenti politici, aggiunge Crocetta, si spingono oltre nell'utilizzo di un linguaggio violento, qualcuno può anche pensare di passare ai fatti. Frasi che arrivano a poche ore dal duro botte risposta con Silvio Berlusconi che in collegamento telefonico durante il primo meeting di Forza Italia, Club Forza Silvio in Sicilia, a Taormina, ha accusato Crocetta di un immobilismo inaccettabile. A rispondere all'ex premier lo stesso Crocetta che ha parlato della reazione di un centrodestra che ha distrutto la Sicilia e tenta di impedirne la rivalza. Ma il riferimento di Crocetta va anche alle frasi pronunciate a Taormina da Vincenzo Gibino, segretario regionale di Forza Italia. Il governo Crocetta fa cadere le braccia, aveva detto, che facciamo, lo prendiamo a schiaffi, ci vorrebbe un colpo di stato regionale. Le parole di Gibino hanno suscitato la dura reazione di Beppe Lumia del PD, secondo il quale espressioni come queste evocano scenari pericolosissimi. Insomma, la tensione sale alle stelle proprio mentre il governo Crocetta è alle prese con il complicato rebus della manovra bis, che forse a stento arriverà a coprire i costi del personale della regione e degli enti collegati, e che si prepara anche al discusso rimpasto rinviato dal governatore a dopo l'approvazione della riforma delle province. La seduta è fissata per domani a Lars e dovrebbe portare al voto finale sul disegno di legge, che però poi dovrà passare un altro test, quello del commissario dello Stato.